Tra Alfonso ed Hortensio ci sarà un nuovo clamoroso incontro, dove ancora una volta, l'uomo tradirà sua moglie. In seguito Alfonso cambierà atteggiamento nei confronti di Emilia, e questo porterà la donna ad avere dei sospetti sul marito, al punto che deciderà di prendere in seria considerazione anche l'ipotesi di lasciarsi definitivamente. Nel frattempo donna Francisca riuscirà finalmente a tornare sana e salva alla villa, un ritorno decisamente molto atteso dai suoi familiari, che finalmente potranno riabbracciarla dopo il lungo esilio, durante il quale la signora è stata nelle mani del nemico. In questi nuovi episodi della SOP vedremo poi che Francisca riceverà una lettera dal tribunale, di cosa si tratta, in seguito vedremo che Hortensia chiede aiuto ad Alfonso, chiedendogli un'ingente somma di denaro, per risolvere i suoi problemi, ecco allora che l'uomo dimostrerà di essere disposto a tutto pur di risolvere il problema finanziario della sua amata, e per questo motivo deciderà di rubare i soldi che si trovano nascosti all'interno della cassaforte di Severo. Come reagirà quest'ultimo nel momento in cui scoprirà che tutti i suoi risparmi sono spariti nel nulla? Metti un bel mi piace cliccando sul pollice in su, ed iscriviti al canale per non perdere le nostre migliori anticipazioni.